11 novembre 1992 Buonasera, la Chiesa Anglicana d'Inghilterra ha detto sì alle donne sacerdoti. Una decisione che giunge a 450 anni dalla fondazione della Chiesa d'Inghilterra e che pone fine ad un intenso dibattito, ma rischia di provocare future divisioni interne e persino la scissione di oltre mille preti tradizionalisti. L'istituzione del sacerdozio femminile nella Chiesa Anglicana rischia inoltre di annullare le prospettive di riavvicinamento con la Chiesa Cattolica. Il servizio. Con una clamorosa e storica decisione la Chiesa Anglicana ha approvato oggi la missione delle donne al sacerdozio. Una decisione, quella presa oggi dal Sinodo Anglicano, che conclude un dibattito lungo e tormentato, iniziato nel 1975. La norma è stata approvata raggiungendo la maggioranza prevista dei due terzi dei voti delle tre Camere che compongono il Sinodo. In polemica con il voto odierno, circa un migliaio di pastori si sono dichiarati pronti a lasciare la Chiesa Anglicana. Grande soddisfazione invece delle 1300 diacone che da tempo attendevano di poter essere ordinate al sacerdozio. La decisione della Chiesa Anglicana allontana la possibilità di un riavvicinamento con quella cattolica. Il portavoce Vaticano Navarro ha definito l'istituzione del sacerdozio femminile un grave ostacolo all'insieme del processo di riconciliazione con la Chiesa Cattolica, poiché il problema del sacerdozio femminile tocca la natura stessa del sacramento e pertanto non può essere autorizzato. Il Papa aveva tentato a più riprese di scongiurare questa decisione, ma è stato lo stesso capo della Chiesa Anglicana, l'arcivescovo di Canterbury, George Carey, a chiedere oggi l'approvazione della norma. Carey avrà ora il difficile compito di mantenere uniti i 70 milioni di anglicani presenti nel mondo. Non tutti condividono la scelta compiuta oggi dai loro rappresentanti.